non mi piacciono le improvvisate ma il quartier generale pensava di aver trovato un luogo per il colpo e aveva inviato forniture e piani per via aerea il problema era che i paracadutisti avevano sbagliato il punto di lancio erano riusciti ad atterrare nel peggior luogo possibile sul campanile di una chiesa l'unica domanda era che avrei trovato ad aspettarmi i tedeschi o i russi non c'era dubbio che mi stessero aspettando l'unica domanda Grazie a tutti. Grazie a tutti.